Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi, pronti ad accogliere i migranti. Il porto di Livorno è sempre aperto per chi ha bisogno di aiuto. Così il sindaco Luca Salvetti che si sta preparando all'arrivo di due navi ONG con a bordo 250 migranti provenienti dal Nord Africa e dall'area subsahariana. La città dei quattro mori è stata indicata dal Ministero dell'Interno come porto sicuro per la nave di Emergency Life Support con 142 migranti e per la tedesca CI4 con 108 migranti. L'organizzazione dell'accoglienza è in mano al prefetto Paolo Dattilio che ha già ultimato tutti i dettagli in vista dell'arrivo della prima nave previsto per il 22 dicembre al Molo 75 nel porto labronico. Sta seguendo e organizzando anche l'assistenza per l'approdo della seconda nave ONG che potrebbe attraccare il giorno seguente. È di un anno e sei mesi per violenza sessuale la condanna inflitta al termine del giudizio in abbreviato al ristoratore marchigiano Andrea Serrani accusato di aver molestato la giornalista Greta Beccaglia, nostra collega di Toscana TV. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero. La Beccaglia era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021. Serrani dovrà risarcirla ma intanto verserà una provisionale di 15.000 euro. Indennizi per 10.000 euro totali sono stati stabiliti anche a favore dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e all'Associazione Stampa Nazionale e Toscana. Il centro-destra in Consiglio regionale della Toscana annuncia un corposo pacchetto di emendamenti. Un migliaio circa in aula alla manovra di bilancio per la quale oggi comincia il dibattito e alla legge di riforma di sviluppo toscana. I gruppi di centro-destra lamentano di aver ricevuto in ritardo i documenti su cui votare e un mancato confronto sulla manovra in commissione. Il Comune di Firenze chiude all'ipotesi di realizzare un gasificatore per i rifiuti, impianto per l'economia circolare che sarebbe dovuto sorgere in località terrafino, al centro di forti polemiche sul territorio. Il sindaco Brenda Barnini ha comunicato la decisione inviando una PEC al presidente della regione Gianni, all'assessore regionale all'ambiente Monia Monni e al presidente di Alia, la società che avrebbe dovuto realizzare l'impianto Nicola Ciolini. Andiamo alla cronaca, avrebbero rubato cosmetici e shampoo per un valore di 800 euro in due negozi del centro di Firenze domenica pomeriggio, approfittando dello shopping natalizio per agire indisturbati. Per questo due uomini di 31 e 35 anni e una donna di 46, tutti di origine georgiana, sono stati arrestati dai carabinieri. L'accusa è concorso in furto aggravato. Il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto il carcere solo per i due uomini. Il 2023 sarà l'anno della concretezza per Firenze. Sarà l'anno dell'avvio di opere pubbliche attese da tanto tempo. Cominceremo con i lavori della tramvia di Bagnarripoli, poi della linea per Campi-Visenzio, sarà poi l'anno dello stadio. Abbiamo avuto conferma delle risorse extra per un totale di 190 milioni di euro, circa, per rifare l'impiatto. Anche in questo caso, il 2023 sarà l'anno di inizio dei lavori. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Nardella, in occasione dei tradizionali auguri a Palazzo Vecchio. Russi e ucraini studiano insieme alla Cittadella della Pace di Rondine, nell'Aretino, dove trascorreranno due anni. Fanno parte della nuova generazione di studenti, 12 in tutto, che in questi giorni è ufficialmente entrata a far parte della World House di Rondine, un programma biennale che promuove un percorso di formazione e convivenza per giovani nemici provenienti da luoghi di guerra o in cui gli echi del conflitto bellico sono ancora forti. Una notizia curiosa, 25 macchine agricole per un maxi albero di Natale a progettare e realizzare l'idea i coltivatori di Pietrasanta in provincia di Lucca, che hanno usato un terreno in via Tonfano come base per la loro suggestiva composizione. Con 22 trattori e 3 mieti trebbie, hanno ricreato la sagoma del tradizionale abete in versione bidimensionale da 100 metri per 50 e poi fari accesi per simulare le luci natalizie e foto dall'alto per immortalare l'opera completa. Veniamo agli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i casi Covid in Toscana. sono 1.765 nuovi positivi, purtroppo si registra un decesso, un uomo di 89 anni del territorio di Massacarrara. I ricoveri salgono a 566, 11 in più rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva, uno in meno rispetto alla giornata di ieri. E ora vediamo insieme alle previsioni del tempo per domani. in Toscana molto nuvoloso, sulla parte più a nord, con deboli piogge, in particolare sui rilievi. Parzialmente nuvoloso altrove. In serata piogge sparse sulla costa per poi estendersi al resto della regione. I venti sono moderati, i mari mossi. E infine le temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, le minime nella parte più a sud della regione, con valori superiori alle medie del periodo. E anche per questa sera è tutto. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.